Ci sono tanti elogi per Simone Verdi, per Fabian Ruiz, nonché alcune critiche nei confronti della Juventus. Francesco scriveva il Napoli, il ruolo dei Guain e poi le emoticon negative in questi confronti, ma tu lo riprenderesti in pipita? Dal punto di vista tecnico, pur magari risultando impopolare, un giocatore come Guain non si può mai dire di no, è uno dei centravanti più forti in circolazione, detto ciò andrebbero fatte una serie di valutazioni su queste, anche quella relativa all'ambiente, che ambiente ritroverebbe Guain o a Napoli dopo quanto è successo? Sarebbe un belirio, sarebbe una sorta di... insergerebbe la piazza in un momento in cui già tutti invocano il ritorno di Cavani, potrebbe apparire quasi come una provocazione. Guarda, ti sei tenuto basso, ti sei tenuto basso da questo punto di vista perché nonostante la cifra tecnica di Guain sia in dubbia e lo abbiamo ammirato nei suoi anni in azzurro dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista dell'ambiente, un suo ritorno non sarebbe mai, mai e poi mai gradito e probabilmente siete anche d'accordo voi che ci state seguendo su Youtube e su Facebook, quindi scriveteci per questa idea folle di mercato, considerando che con l'acquisto di Cristiano Ronaldo Guain mi è dato in uscita. Sì, è in uscita, ricordiamo che piace al Chelsea, è stato accostato al Chelsea di Maurizio Sarri, ma anche al Milan che magari cerca un attaccante dopo i disastri compiuti nella passata stagione da Kalinic, che è stato salvato da Cutrone, detto ciò ovviamente bisogna vedere gli sviluppi del mercato, a proposito di ambiente ne parlavo stamattina proprio con Manuel Guardasole della possibilità di un ritorno di Bonucci alla Juve, diciamo praticamente le stesse cose. Nel frattempo il terreno di gioco è aumentato dal punto di vista dell'ampiezza, non ci sono ancora le porte, quindi semplicemente in questo momento un lavoro improntato al pressing, al possesso di palla per i raggiunti con le stesse squadre dell'esercizio precedente, ovvero in questo momento Mario Rui, che da palla a Maximovic, di Amarano, circolazione abbastanza veloce con Grassi sulla fascia destra per Kajon, Kajon scarica per Milik, anzi scusa per Fabiano, che la dà poi a Milik, e la palla ritorna nel possesso della squadra della squadra blu, che vede in attacco Adam Unas, Roberto Ingrese e Simone Verdi, proprio Unas, in questo momento colpito da una pallonata di Mario Rui. Ovviamente pallonata di Ballontari, il calciatore però ha un po' accusato il colpo, ovviamente adesso si è rialzato, è tornato a pensare subito su Mario Rui, anzi no, in realtà si tiene ancora la mano, probabilmente è stato colpito proprio lì. Intanto colpo di tacco di Koulibaly, una delizia, nel frattempo invece Amsic ha centrato il collaboratore di Carlo Ancelotti. Guarda, non so se effettivamente i due collaboratori si hanno posizionati come a essere dei bersagli, o quantomeno dei portieri, perché abbiamo visto Maksimovic essere superato dal pallone e di invocare, come si dice, se no, gollo. Sì, anche perché il confine del campo in questo momento è rappresentato dalla linea dell'area di rigore, sia da una parte che dall'altra, e i collaboratori di Ancelotti sono posizionati nell'area piccola, nella lunetta all'esterno dell'area stessa. Quindi ecco, magari l'obiettivo finale di questo possesso palla deve essere magari passare la palla tra le mani dei collaboratori. Nel frattempo la squadra Buda ancora in possesso del pallone, come possiamo vedere, Simone Verdi ha lancio lungo tra le braccia del collaboratore tecnico di Ancelotti. Precisione chirurgica, ancora una volta, da parte di Simone Verdi, che dimostra di avere delle doti innate, e tra l'altro di averle sia con il destro che con il sinistro, è una cosa insolita. Ha detto di preferire di calciare con il sinistro, ma personalmente non vedo tutta questa differenza. Nel frattempo vediamo già alla nostra destra una delle due porte messe praticamente in un angolo del terreno di gioco. Chissà che non possa esserci qualche altro esercizio da parte della squadra azzurra. Marek Hamsk, dribbling elegante, perde il pallone però davanti a Davadudio Verra, poi Zieliński la lancia in avanti. Le indicazioni che al momento è più interessante riguardano ancora una volta il posizionamento dei due registi, dei due vertici bassi di centrocampo, che poi quando il regista avversario in possesso palla sono loro ad alzarsi, ovviamente questo richiede delle scalate particolari per evitare di creare dei buchi nella metà campo, in tal senso dovranno essere molto bravi i due interni, da una parte Alan e Rog, dall'altra parte Fabia Ruiz e Zieliński, a evitare che questi buchi si creino per l'appunto. Nel frattempo termina in questo momento l'esercitazione, Goulam continua a camminare sul terreno di gioco con uno dei collaboratori di Ancelotti, ed il mister a metà campo sta spiegando un po' i movimenti da fare ai propri calciatori. Sì, ha detto di trovarsi molto bene in questo spogliatoio, che ci sono ragazzi molto intelligenti disposti ad ascoltarlo nei consigli che ha da dargli, questo non può far altro che mettere di buon umore tutto l'ambiente, rasserenare tutto l'ambiente, dal momento che la squadra dopo un comandante come Sarri ne ha trovato un altro di pari valori, se non addirittura migliore. Ovviamente ci chiedete anche di mercato, la novità più importante riguarda Santiago Arias, perché per il terzino colombiano del PSV Endoven praticamente ci siamo. Sì, ci siamo, è un affare come detto anche prima, addirittura d'arrivo può essere lui il quinto colpo di questa sessione di mercato del Napoli, Ancelotti lo aveva annunciato nel suo primo incontro con la piazza partenopea nella conferenza stampa che possiamo definire di presentazione, serviva un terzino destro dopo la partenza di Cristian Maggio, questo terzino destro adesso possiamo dire 95%? Ma guarda, fare percentuale è sempre brutto, perché può sempre capitare, pensa ieri da Roma, aveva avuto Malcom, e poi i tifosi della Roma lo aspettavano all'aeroporto, quando l'affare era praticamente fatto, le stesse due società avevano annunciato il suo trasferimento, abbiamo visto che fine ha fatto, quindi fare percentuale magari è anche rischioso, però possiamo dire che il Napoli e il PSV Hendoven hanno trovato un accordo attorno agli 11 milioni di euro circa, al calciatore verrà corrisposto un ingaggio da circa un milione e mezzo di euro più bonus, diciamo che Arias spinge, Arias ricordiamo è un tasso 92 colombiano che ha fatto il mondiale, spinge per arrivare qua a Di Maro entro la settimana nella maniera più ottimista. Sì, quantomeno anche per conoscere, per avere un primo impatto con il nuovo ambiente con cui poi dovrà convivere nella prossima stagione, è un calciatore, ricordiamolo, dalle attitudini molto più offensive rispetto a Elze di Usai, ha imparato negli anni anche a migliorarsi dal punto di vista difensivo, resta comunque in terzione di grande spinta, per fare dei paragoni dal punto di vista del suo approccio al ruolo, più simile possiamo dire ad un Mario Rui piuttosto che a Usai, ma in ogni caso ha dimostrato anche nella nazionale colombiana, anche nel mondiale, di saperci stare come in una grande squadra e di dire la sua anche quando c'è da contenere ovviamente. Nel frattempo continua l'esercitazione da parte della squadra azzurra, vediamo Mario Rui in percussione sulla fascia a sinistra. Bel numero su un ass con la suola nel frattempo. Sono fermato da Marco Rogg, Marco Rogg che si è scambiato di posizione, le mezzate lo fanno spesso, è una delle caratteristiche più interessanti di quelle mostrate da Carlo Ancelotti. Sì, si invertono, questo è anche merito, è da sottolineare comunque dei calciatori che sanno scambiarsi nei ruoli. Fabian Ruiz per la missione dello stesso Ancelotti è in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Nelle prime uscite l'abbiamo visto più impiegato sul versante Mancino, ma in ogni caso in allenamento adesso sta agendo stabilmente sul centro-destra e non mi pare che stia figurando male, anzi, visto che comunque è lui che prima ha trovato la via del gol sull'assist di Milik e che ha fatto altre giocate di livello comunque. Nel frattempo Fosigulam continua a camminare all'esterno del campo, sulla pista d'atletica con uno dei collaboratori di Carlo Ancelotti. Il fatto che Arias possa arrivare a Napoli potrebbe portare anche, visto che per Fosigulam la questione del rientro in campo ci vuole ancora un po' più di tempo, potrebbe portare Elsa Di Usai a giocare anche a sinistra. Sì, infatti credo che nel caso dovesse concretizzarsi questa che pare quasi una certezza, vale a dire l'arrivo di Arias, possa magari venire usato con maggiore continuità nella posizione di sinistra Elsa Di Usai, posizione che però ha ricoperto già contro il Carpi, anche se per pochi minuti prima di passare poi ad agire da centrale difensiva addirittura. Nel frattempo è da sottolineare una novità, visto che Diavara si è accomodato in panchina e dallo stato attuale delle cose il regista dei gialli, da regista Stagento, Allan, che magari lo ha già fatto ai tempi dell'Udinese, con caratteristiche diverse e richieste diverse, però è magari una novità tattica ulteriore per un calciatore che ha dimostrato di saperti di si impegnare anche da terzino. Nel frattempo all'esterno del campo da gioco c'è Fosigulam, c'è anche Alex Meret, su una delle ciclette a bordo campo dietro la porta c'è Lorenzo Tonelli, che si sta allenando a parte. In questo momento, magari tra i cinque difensori centrali, attualmente in rossa, senza contare Sebastiano Luperto, non dico il più iniziato a partire, forse in questo momento è proprio Tonelli. Sì, è per voler utilizzare un'altra espressione, un po' come se fosse l'ultimo nelle gerarchie di Carlo Ancelotti, giusto com'è da Raul Albiol, Koulibaly, Chiri, che è lo stesso Maximovic, che è ritornato e che ha voglia di rilanciarsi qui a Napoli. Vediamo quale sarà poi il suo futuro, è stato accostato più volte a diverse squadre, vediamo se il Napoli vorrà tenerlo, se lui vorrà restare, vanno fatte delle valutazioni, potrebbe servire un quinto difensore centrale, visti i tanti impegni che attendono il Napoli in questa stagione, ma bisogna dire ecco varie cose, tra cui anche l'intenzione del calciatore. Beh, quello è poco, ma sicuro, certamente il Napoli da queste prime due settimane di tiro sembra puntare molto su Nicola Maximovic, per il quale sono spesi tanti soldi, con Sarri non ha mai espresso al massimo il suo talento, lui viene pagato 26 milioni di euro, dal Torino e prima dell'acquisto di Fabian Ruiz rappresentava il terzo acquisto più costoso della storia del Napoli, lui con la maglia azzurra ha giocato poco e forse è anche una delle volontà di Aurelio De Laurentiis è quella di vederlo maggiormente in campo e da questo punto di vista si spiega anche come spesso Ancelotti lo schieri nelle partitelle con i teorici titolari. Sì, bisogna ricordare anche che nei tre calciatori che partono alle spalle di Raul Albiolo e di Koulibaly Maximovic credo che sia quello da escludere nella maniera quasi più assoluta in ottica di una cessione. Consideriamo il fatto che nel caso dovesse essere venduto adesso andrebbe a creare inevitabilmente una minusvalenza per il Napoli che molto attento a queste cose di certo non si farebbe trovare spiazzato quindi ecco, lui resterà sicuramente non a caso in assenza di Khalidou Koulibaly ha sempre giocato lui accanto a Rullo Albiol non Chiricash, non Tonelli lui partiva titolare quindi ecco, anche questo dimostra il fatto che Ancelotti punta molto su di lui e lo dimostra ogni qualvolta nella possibilità. Nel frattempo sta facendo il Ter e le stanno adesso sempre nel sito Yusai molto più avanzato rispetto agli altri due centrali con in questo momento proprio Yusai in possesso del pallone lo riesce a tenere Koulibaly mamma mia che scivolata da parte di Khalidou Koulibaly non fa distinzione tra allenamento, partitella, amichevole, gara ufficiale sempre al massimo della condizione in questo caso ha sradicato il pallone dai piedi di Yusai con una scivolata perfetta con cui ha allontanato il pallone si sta dimostrando molto 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 vimpante sin dalle prime battute ricordiamo che si è aggregato al gruppo da un paio di giorni nonostante questo però sembra già essere in forma straripante e questo non può fare altro che dare indicazioni positive a Carlo Ancelotti che le deve raccogliere ovviamente fare le sue valutazioni Nel frattempo Alex Meret è all'esterno nel terreno di gioco ve l'abbiamo fatto vedere ve l'abbiamo fatto vedere prima ci siamo quasi dobbiamo aspettare ancora un altro mese e mezzo prima di rivederlo in campo sta uscendo al campo Amadou Davarà con il vicepresidente del Napoli Edo De Laurentiis non mi sembra che stia zoppicando però mi pare che non abbia le scarpette ai piedi capiremo meglio è leggermente zoppicale ma molto leggermente ma cioè nel senso nulla di troppo preoccupante soprattutto perché sta uscendo con le sue gambe non mi pare che ci sia particolare allarmismo però bisogna valutare per quale motivo ecco è uscito e ha lasciato anzitempo il terreno di gioco questo sicuramente da vedere nel frattempo Davarà esce dal campo applaudito dai tifosi azzurri torniamo un attimo sull'esterno del campo alla nostra destra perché Alex Meret che fa tempo prima che è l'inizio della partita è la vera e propria Alex Meret è all'esterno del campo alla nostra destra e sta facendo esercizi fisici con uno dei preparatori di Ancelotti e poi colpisce il pallone è la prima volta che lo vediamo lavorare con il pallone dopo l'infortunio sì è una brutta botta per tutto l'ambiente soprattutto per il morale del ragazzo ricordiamo l'infortunio ad Alex Meret durante un allenamento uno scontro con Mezzoni tra l'altro sfortunato anche lui perché è stato ricoperto da una pioggia di insulti dopo quell'episodio uno scontro assolutamente fortuito il portiere ci ha rimesso tra virgolette il braccio ha riportato una frattura del terzo medio dell'Ulna i tempi di recupero non sono troppo lunghi ma in ogni caso è quantomeno difficile ipotizzare un suo rientro già per la prima di campionato allora nel frattempo Carlo Ancelotti si sistema proprio sulla linea dove deve essere posizionata la porta per quanto riguarda la partitella è come se stessi facendo i passi quando giochi a pallone e vuoi calcolare la distanza della barriera e quindi fai 3-4 passi quanto più lontana la vuoi mettere dovrebbero rientrare a breve credo a questo punto anche i portieri due portieri per la partitella e noi ve la racconteremo in diretta nel frattempo entra anche Vinicius Morais sul terreno di gioco dovrebbe essere uscito momentaneamente Raul Albiol alla nostra destra perché lo vediamo andare verso la cicletta a bordo campo lo spagnolo non è la prima volta che non compresa tutta la salute all'allenamento in questo momento non possiamo dire ovviamente che sta uscendo fuori però lo vediamo fuori dal campo Sì, diciamo che i principali grattacapi stanno arrivando proprio dalla linea difensiva Albiol ha spesso svolto lavoro individuale qualche volta è capitato anche a Kirikesh oggi anche Tonelli non ha preso parte per intero alla seduta con il gruppo detto ciò sono intoppi che sono normali nel corso di ritiro i carichi di lavoro sono pesanti e questo porta equa a dei piccoli affaticamenti dei indolenzimenti muscolari ma al momento a parte il K.O. di Meret non sono da riscontrare particolari problemi Nel frattempo torniamo sulla partitella che sta per iniziare stanno arrivando anche i portieri quindi ve la racconteremo ovviamente in diretta con le formazioni il portiere alla nostra destra dovrebbe essere Orestis Carnesis alla nostra a nostra destra quindi con la squadra gialla nella formazione vediamo cerchiamo un attimo di capire Yusai terzino destro era coperto da Maximovic forse per te ancora coperto da Maximovic cioè Elzed Yusai Nicola Maximovic Koulibaly e Luperto poi passando al centrocampo in questo momento manca il vertice basso perché ci sono solo Fabian Ruiz e Zininski vediamo se adesso quella posizione andrà ricoperta magari da Allan in attacco poi sicuro ci sono Insigne Vinicius e dall'altra parte mi pare di vedere Verdi sì esattamente ma vedo anche Lorenzo Insigne sì allora io non dico voglio voglio mi ipotizzare manca uno sì ma anche invece per dirti un possibile 4-2-3-1 ci stavo pensando anche io invece in questo momento è un 4-4-1 esatto perché di fatto manca un dicesimo calciatore mentre per quanto riguarda i blu vediamo Allan Grassi Kiri Cash e a sinistra dovrebbe esserci a questo punto Mario Rui un attimo capire sì 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 Allan riproposto terzino destro e quindi a centrocampo vediamo Mare Kamsik poi in attacco Milk è inglese doppia prima punta è forse la prima volta che vediamo qualcosa del genere come se fosse non dico un 4-2-4 una prova del genere però le prime due punte così non le abbiamo mai viste sì 4-2-4 4-4-2 4-4-1-1 a voler esagerare in ogni caso il modulo come dire i numeri ci dicono poco quel che conta è che al momento occupano la zona centrale del campo sia Roberto Inglese che Arcadius Milik vediamo come si integrano tra di loro perché Milik anche in nazionale ha spesso giocato a supporto di una prima punta in quel caso Lewandowski vediamo come sarà l'intesa con Inglese a volte ha giocato anche a Napoli con Pavoletti ricordo in quel periodo quando arrivò non giocò francamente benissimo esatto non entusiasmò per così dire nel frattempo Fabian libera Vinicius Moraes che supera il portiere ma il gioco viene fermato dallo stesso Carlo Ancelotti diciamo che la penura ai difensori centrali porta poi dei calciatori in ruoli inusuali tipo Alberto Grazzi Grazzi fa il centrale di difesa è anche un segnale per far capire effettivamente quanto il calciatore forse non rientri nei programmi del club pallone nei piedi di Vinicius Moraes la conclusione verso la porta difesa da Contini finisce finisce fuori Vinicius Moraes non ha particolarmente brillato però se c'è una cosa da dire è che si fa trovare sempre pronto quando si tratta diciamo di scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori in questo caso non ci è riuscito però comunque è buono il tentativo dalla distanza ad incrociare di sinistro torniamo in cronaca diretta della partita con Vlad Kirikas in possesso del pallone palla per Marco Rog lancio in diagonale profondo per Alan un po' troppo profondo Alan contro il Carpi utilizzato da estero destro si e nei frangenti si sta rivelando praticamente una sorta di jolly prima come dicevamo anche se per pochi minuti è stato provato da regista addirittura col Carpi ha fatto bene in quella posizione per quanto ovviamente l'abbia ricoperta per pochissimi minuti pure indicazioni secondo me ha le caratteristiche per giocare lì in determinate condizioni certo io però farei fatica a rinunciare all'aggressività di Alan in mezzo al campo in maniera continua la presenza di Rog però in tal senso può aiutarlo ad ambientarsi con calma in questa nuova posizione ecco qui la verticale il gran controllo di Roberto Inglese ma la squadra nel frattempo Maximo ci ha distrutto la vita di Koulibaly agliato non deve non deve essere piacevole recuperare un pallone in in determinate posizioni siamo diciamo così però descriviamo cosa è successo un rimpallo Maximo il pallone colpisce Koulibaly lì dove non batte il sole ricomincia l'isercitazione da parte di Azzurri non possiamo definirlo una vera e propria partitella però possiamo sicuramente dire che Ancelotti sta provando altri moduli questo è proprio ma sicuro perché Milk Inglese è la prima volta che li vediamo assieme con Caglion molto vicino nonché dall'altra parte vediamo quasi un centrocampo a quattro sì ovviamente questa è una delle novità che salta di più all'occhio se si pensa all'integralismo tattico da parte di Maurizio Sarri praticamente ricordo ancora l'anno scorso il ritiro non veniva di fatto quasi mai provata qualche alternativa al 4-3-3 di base ecco in questo caso invece vediamo almeno una novità al giorno da registrare in questo caso ecco si sta provando il centrocampo a 2 vediamo quali saranno i risultati ma in ogni caso c'è voglia di provare anche delle soluzioni che possano essere alternative rispetto a quelle standard nel frattempo Simone Verdi ha provato a fare una serpentina tra i difensori della squadra blu ci è riuscito ma non è riuscito a mettere il pallone in rete mentre all'altra parte a questo punto vediamo come funziona il tandem inglese-Milic uno più tecnico applausi per il Colibali che in semirovesciata rilancia il pallone lontano dalle zone della porta difesa da Carnesis dicevamo inglese-Milic uno un po' più tecnico uno un po' più fisico sì diciamo a voler giocare con le posizioni standard con i numeri possiamo dire che in questo caso Roberto Inglese agisce da avere proprio nove Milic invece un numero 11 a supporto della prima punta ad approfittare magari di eventuali sponde ecco per me dal punto di vista tecnico si possono integrare bene bisogna però vedere poi nei fatti come andrà questo esperimento noi saremo qui a commentarlo magari a raccontarvi anche dei gol se ci saranno nel frattempo continua il lavoro sulle ciclette da parte di Raul Albiola di Lorenzo Tonelli all'esterno del campo nascosti dalla rete della porta così come prosegue il lavoro di Fosigulam che sta semplicemente camminando sul terreno di gioco si fa vedere e in questo momento viene fischiato un attimo viene fermato il gioco con Carlo Ancelotti che va a spiegare eventualmente altri movimenti Fosigulam ci sembra uscire dal terreno di gioco si sta dirigendo verso questa zona di verso gli spogliatoi facendo il giro a largo ovviamente adesso sta passando davanti alla palestra ecco magari sono in attesa della standing ovation che riceverà sicuramente dal pubblico numerosissimo presente qui sulle serbure del comunale di Carciato ne avrà bisogno anche perché c'è bisogno di lui Napoli necessita di un terzino sinistro con le sue qualità Ancelotti lo aspetta a braccio aperto e speriamo di poterlo rivedere subito all'opera nel minor tempo possibile ecco ma a questo punto grazie all'ausilio del nostro Giovanni Battiloro alle spalle della telecamera proprio andiamo a inquadrare Fosigulam che sta uscendo dal campo un attimo che in questo momento è coperto semplicemente dall'ambulanza seguiamo l'uscita di Fosigulam dal terreno di gioco alla nostra alla nostra destra un gulam sorridente sì sempre di buon umore bisogna dirlo l'algerino nonostante le botte che il destino gli ha riservato ecco attendevo la standing ovation che è arrivata puntuale i tifosi napoletani sono molto legati al terzino algerino e penso che sia ecco adesso è arrivato il secondo tempo di questo standing ovation il legame sembra essere vicendevole un legame sicuramente stretto tra Fosigulam e la maglia azzurra ci sono alcuni cambi di formazione tra i verdi tra i gialli e i neri ad esempio Vinicius e Milik si sono scambiati la casacca sì a voler essere un po' critici non è andato benissimo l'esperimento con l'inglese vediamo adesso come si integrerà il bomber polacco con l'attaccante brasiliano arrivato proprio quest'estate e che è un po' l'oggetto misterioso di questo ritiro al di là di questo però resta l'intento di voler provare questa sorta di 4-4-2 con l'ala sinistra che per i gialli viene ricoperta come posizione da Marco Rog dall'altra parte invece Cagliecon vediamo un attimo ecco come si andranno a posizionare i vari calciatori sì c'è da dire che comunque la curiosità è molta ecco per quanto riguarda Vinicius è un giocatore da tenere sotto osservazione però io faccio fatica di immaginare un suo futuro almeno quest'anno qui a Napoli beh quello è poco ma sicuro Vinicius ce lo ricordiamo ha fatto la serie B lo scorso in Portogallo è arrivato ultimo con la sua squadra segnato sì è stato capocannone ha fatto 19 gol ma l'ultimo calciatore è arrivato in Italia dalla B portoghese e Simi il centro antinigeriano il crotone francamente è un calciatore che sì magari può stare in Serie A ma non può stare con la maglia del Napoli però il legame tra i tifosi del Napoli e Simi si è consolidato molto con la rovesciata che ha messo a segno contro la Juve scherzi a parte sì ovviamente magari potrebbe rivelarsi un crack uno di quei calciatori che esplode tardi ma lo stato attuale delle cose non rientra nei piani di Carlo Ancelotti mi sento di dirlo nel frattempo Milik andò a fare la prima punta del 4-4-1 mentre Vinicius e Inglese stanno facendo coppia in quello che possiamo definire anche un 4-2-4 con Verdi e Unas sui lati ecco in questo caso qualche riserva in più visto che anche dal punto di vista proprio morfologico squisitamente fisico sono due calciatori molto simili due centravanti veri di quelli che ecco che fanno anche diversi gol sporchi come si suol dire le caratteristiche dell'uno sono molto simili a quelle dell'altro quindi non li vedo molto bene come coppia